Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy E benvenuti in un nuovo video recensione di un prodotto top Ultimamente abbiamo solo prodotti costosi in prova Semplicemente perché è parte di uno degli ultimi articoli della mia configurazione che stiamo recensendo Per cui credo sia il penultimo, manca solo il monitor Manca solo il monitor che anche quello sarà una bella recensioncina impegnativa Per cui fa parte di quella che era la configurazione top da recensire Queste sono, senza giochi di parole o altro tipo di premessa, le migliori RAM presenti sul mercato E anzitutto, prima di cominciare il video, ringraziamo grandemente Corsair per averci dato la possibilità Non solo di averle sotto mano, ma anche di provarle, testarle e averle appunto all'interno di una configurazione Per poterne fruire abitualmente e per lungo periodo Manca che frase ho detto Il modello in questione sono le nuove RAM Corsair Dominator Platinum RGB Ovviamente come al solito sui nomi non ci siamo Le Dominator Platinum sono comunque RAM che conoscete Sicuramente avrete già visto in qualche modo online Perché sono RAM abbastanza rinomate Sono anni che sono famose queste RAM che sono sempre al top Nelle configurazioni e nei test In questo caso Corsair ha rivisto questo modello L'ha reso diciamo più moderno Aggiornato con la concorrenza Sì, esatto E per fare questo ha voluto addirittura sviluppare proprio una nuova tecnologia riguardante l'illuminazione Che è quello che tutti i gamer cercano Esatto perché una delle novità principali No, la novità principale di queste RAM È la nuova tecnologia di LED inserita appunto in queste RAM Cioè la tecnologia Cappellix Che anche qui con la nomenclatura potremmo disquisirne per diversi minuti anche in questo caso Però vabbè a noi ci piace così Cappellix In questo caso Corsair ha studiato appositamente una nuova tecnologia Un nuovo sistema di sviluppo di LED Che permettano di risparmiare anzitutto spazio Perché sono molto ma molto più piccoli dei LED convenzionali E risparmiare allo stesso tempo dell'energia Cioè consumano il 40% in meno rispetto a dei LED classici Ma non solo La cosa più assurda tra virgolette È che prima ovviamente venivano comprati dei LED Secondo gli standard dei produttori Questi sono proprio un nuovo processo produttivo E le dimensioni sono veramente infime rispetto agli standard che hanno Perché sono proprio piccolissimi rispetto a un LED Che viene usato normalmente su altre RAM Tant'è che Corsair dichiara che all'incirca Nello spazio in cui ci stavano 4 LED convenzionali Ci starebbero 100 Cappellix 100 Cappellix sono pochi Se pensate Forse per quello rende l'idea Ma Corsair non è italiana Cappellix non si dice Cappellix in inglese Forse perché è un cappello Beh non stiamo qui a spezzare il cappello Questo porta uno dei brand comunque che ha già un paio di RAM Che secondo me sono bellissime Che sono le Corsair Vengeance RGB Che sono veramente belle Con la parte superiore completamente a LED addressable Che è possibile cambiare Fare una bellissima illuminazione E veramente sono ottime i RAM Qua invece abbiamo dei piccoli quadratini Che possono illuminare molto più eleganti Meno tamarro ma più elegante In queste particolari RAM Nelle Dominator Platinum RGB Appunto che abbiamo qui in analisi Non qui fisicamente Ma vi stiamo mostrando le immagini ovviamente in questo momento a schermo Sono stati posizionati 12 cappellix Che voi direte ma se in 4 ce ne stavano 100 perché non ce ne hanno messi 8000 Semplicemente per il fatto che Corsair ha voluto risparmiare per quanto riguarda il consumo di queste RAM E poter mantenere quelle che possono essere le prestazioni anche in overclock migliori appunto Risparmiando sui LED che comunque hanno un'illuminazione maggiore Quindi riescono comunque ad avere una resa ottima anche se sono solo 12 E mantengono comunque lo stesso concetto di addressable RGB Quindi potete modificare LED per LED nel suo colore E l'effetto ragazzi come potete vedere è bellissimo Queste RAM sono stupende Sono confezionate meravigliosamente E gli effetti di LED I giochi di LED che si possono fare Sono veramente fighi Ma non finisce qui Perché come sapete questa non è una novità Perché non è una novità Ma è una cosa che da qualche tempo in giro Il software di Corsair L'IQ Permette di fare una cosa spettacolare In questo caso Corsair Diciamo combina come fanno anche tanti altri produttori Però a parer nostro Corsair lo fa in maniera davvero molto più elegante E soprattutto con delle funzioni che altri non fanno Combina l'illuminazione di tutte le periferiche presenti nella vostra configurazione E nel caso di Corsair ci sono anche dei dissipatori Per esempio All-in-One Che fanno parte sempre della configurazione Che potete collegare e gestire tutti in sincro Case Tanto per dire Quindi alla fine della fiera avrete un intero setup Che gestite con IQ tramite il software IQ Secondo tutti gli effetti di illuminazione che volete Addirittura al Computex dell'anno scorso Corsair ha fatto vedere una demo di IQ Che faceva appunto andare tutti i led della configurazione Quindi mouse, tastiera, cuffie, case Appunto l'illuminazione all'interno del case Tra ram e cose varie Insieme a Far Cry 5 A seconda dell'ambiente in cui stavate giocando Lui cambiava addirittura l'illuminazione di tutto il vostro setup Quindi se col vostro personaggio vi buttavate in acqua Faceva vedere proprio che tutto cambiava Con delle tonalità di blu, di azzurro Poi a seconda di come vi muovevate Se eravate in una prateria C'era una tonalità di marrone, di verde Una figata incredibile Che nessun altro fa per il momento almeno Esatto, non sono le classiche illuminazioni preimpostate Ho scritto arcobaleno, alternativo Cioè sono cose, è una cosa decisamente più approfondita E fatta meglio Per cui dà tutto un insieme di quello che è poi anche l'ecosistema Corsair Che si è creato A dare un tocco in più di classe a questo tipo di ram E a comunque tutto l'ecosistema Corsair Ovviamente i capelli X per come sono studiati Potremmo aspettarceli anche su tutti gli altri periferiche Che Corsair andrà a presentare poi nei prossimi mesi ovviamente Quindi questo diciamo che può essere solo l'inizio Di una tipologia di tecnologia che poi Corsair andrà ad applicare Anzi ce lo aspettiamo Di brutto anche Perché effettivamente se sono così funzionali Ah tra l'altro tramite IQ Chiaramente potete anche monitorare tutti i vari parametri Dei singoli banchi di ram in questo caso Quindi i timing, le temperature per singolo banco Le frequenze eccetera eccetera E appunto collegandoci con questo andiamo alla parte meno importante Per tutti voi Cioè le prestazioni Esatto Perché delle ram Che cazzo è che delle prestazioni Uno vuole vedere i led RGB Le prestazioni non sono importanti Queste ram ragazzi Diciamolo subito Vanno su un overclock da paura Il modello che abbiamo tirato noi Fino a 3800 megahertz E ragazzi abbiamo guadagnato in gaming Abbiamo provato su Anthem Assassin's Creed Odyssey Metro Poi abbiamo provato Sekiro Ma lasciamo stare Vabbè Lasciamo stare E abbiamo raggiunto di solito circa il 3-3,5-4% Fino ad arrivare al 5% solo in un caso Sono ottimi risultati comunque per un overclock di questo tipo Comunque su piattaforma Intel E parliamo comunque del guadagnare del 5% al massimo Passando da frequenze di 3000 megahertz appunto ai 3800 Che è il massimo che siamo riusciti a raggiungere Scusate la dislessia Ovviamente ricordiamo che con IQ potete vedere tutto lo stato delle ram In tempo reale Aggiornato Timing E tutti quelli che sono i parametri delle vostre ram Così da avere proprio la situazione sotto controllo E poi poter modificare successivamente quelli che sono i parametri Arrivando nel vostro profilo preferito Oltre ovviamente a impostare tutti i vari effetti preimpostabili di illuminazione Quindi il classico wave, il pulse Tutte quelle cose classiche che potete fare da una vita con i led RGB Solo che in questo caso sono addressable Quindi gli effetti sono più fighi Le ram in particolare sono sviluppate con 10 layer di PCB Quindi il PCB è diviso in 10 strati È un multistrato È un PCB multistrato Di cui uno dedicato solamente alla dissipazione Cioè realizzato appunto in alluminio Per garantire alla struttura e alle memorie Chiaramente che sono applicate al PCB Una dissipazione migliore Quindi è un banco Una serie di banchi sviluppati proprio ad hoc Anche pensati per una migliore dissipazione in tutto e per tutto Ricordiamo che sono disponibili queste ram A un prezzo elevato ma ne vale assolutamente la pena Sono dedicate a per overclock e a per configurazione di fascia altissima Di il prezzo? Il prezzo parte da 179 euro E arriva... Sì per la... 179 euro La senti? Sì È la madonna dell'utente che ha appena sentito il prezzo Per la versione 2x8 giga Fino ad arrivare ad esempio a 4x16 E arrivare a 599 Sono ram ovviamente che vanno inseriti in una configurazione di livello alto Non sono ram normali Ci sono le Corsair Vengeance RGB per configurazioni normali Le abbiamo già detto Le abbiamo già inserite anche nelle nostre configurazioni Queste sono per chi cerca qualcosa in più Per chi vuole fare una configurazione decisamente più superiore Per chi vuole fare overclock e divertirsi con queste ram Ma soprattutto per tutto il discorso che abbiamo fatto da inizio video Per chi vuole anche una configurazione bella Cioè esteticamente figa Quindi vuole farsi anche tutto un setup ad hoc Che possa fare un figurone diciamo anche In conclusione siamo rimasti veramente colpiti da questo prodotto È un ottimo prodotto dedicato come detto solo a una fascia più alta Perché ci sono già prodotti che coprono una fascia medio bassa Per cui si è rinomentato Eh ma costa un tanto Questa qua stiamo recensendo i prodotti della mia configurazione Sono configurazioni high clever Ci sono le Corsair normali RGB Le Avengers RGB Per cui lo sapete perfettamente Le mettiamo in ogni configurazione Se non volete queste Però per chi vuole la configurazione di alto livello Sicuramente queste sono ottime ram Considerate poi che sono ram uscite da poco E pagate anche tanto lo sviluppo di questa nuova tecnologia Perché chiaramente quando si sviluppa qualcosa di nuovo Le aziende tendono a farlo pagare un pochettino di più Però per rimanere aggiornati sul prezzo Visto che adesso comunque il kit che abbiamo avuto noi in prova È il kit da 4 banchi da 8 Se non ricordo male Quindi ha un prezzo più elevato effettivamente Però noi vi lasciamo il link qua sotto in descrizione Per avere il prezzo aggiornato nel caso in cui vediate questo video tra un bel po' Questo è tutto ragazzi Fateci sapere cosa ne pensate qua sotto Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Iscrivetevi a Instagram Facebook Al canale Telegram E noi ci vediamo nei prossimi video Alla prossima ragazzi Alla prossima ragazzi Alla prossima ragazzi